Soprattutto sono stati straordinari per l'atteggiamento, la voglia, la fatica, il sacrificio che ha messo in campo i miei ragazzi, i nostri ragazzi, i ragazzi di questo club, di questo paesino dove quelle cose che non possono mai accadere poi alla fine sempre accadono, oggi stava per accadere, sono stati imprecisi in qualche dettaglio, qualche dettaglio probabilmente perché ho sbagliato io a dargli delle indicazioni nel finale, i ragazzi non sono riusciti a prendere quell'ultimo pallone, a segnare quell'ultimo tiro e vincere la partita, ma loro sono stati veramente straordinari per l'impegno, per l'attitudine, per il modo di stare in campo, questo è un paesino dove le cose succedono, intanto dobbiamo ricordarcelo. L'impegno nelle ultime tre gare in cui siamo andati direi più che a un soffio di vincere, molto più vicino di quanto si creda, dei vari punteggi, ci vedrà sia molto rammarico ma ci dice anche che dobbiamo continuare a lavorare per vincere la prossima partita, gara dopo gara. Sono particolarmente contento che hanno dimostrato attaccamento al club, alla società e ai ragazzi dando veramente questa grande dimostrazione di energia, io penso che tutti i tifosi siano contenti e li aspetto molto più numerosi la prossima volta che giocheremo in casa. Vorrei veramente guardare negli occhi tutti chi non viene a vedere questa grande orlandina e a non capire quanto grande può essere questa squadra. Grazie per il bentornato a Capodorlando e grazie a tutti gli orlandini perché da stamattina è stata una, non lenta, una veloce processione per cercare di salutarmi in ogni modo possibile, per portarmi saluti a mia moglie, a mia figlia, come se fossi un orlandino. E ringrazio tutti, sinceramente mi hanno fatto emozionare queste cose qua. Per quanto riguarda la partita ci sono due cose che dico, uno devo fare i complimenti all'orlandina, del resto nelle ultime sei partite in casa aveva fatto cinque vittorie e perso una partita all'ultimo possesso. Oggi siamo riusciti a complicarci la vita per conto nostro, ma vorrei rovesciare quello che a Cantù si pensa. Noi oggi dobbiamo essere contenti, dobbiamo essere contenti perché abbiamo vinto su un campo difficile una partita.